Noi abbiamo bisogno che l'Italia, che ha due passi dai luoghi in cui sta succedendo un cambiamento ancora incerto ma sicuramente epocale, abbiamo bisogno che l'Italia si presenti con un suo profilo e abbia una sua voce. Noi dobbiamo smetterla di essere troppo domestici nello sguardo. E' una cosa incredibile come quel che sta succedendo sia fuori dalla nostra discussione. Io penso che il centro-sinistra possa portare un'apertura mentale sufficiente a ritenerci, non misura chiusa, a ritenerci invece protagonisti di una vicenda che va fuori di noi, aiutare l'Europa a occuparsi di più del fronte sud, del Mediterraneo, osservare quei cambiamenti dando una mano a chi li fa evolvere nel senso della partecipazione, della democrazia senza pretendere di esportare ricette, ma favorendo tutto quello che viene attraverso la discussione pubblica e partecipazione, scegliendo delle cartine di tornasole per il nostro giudizio. Io l'ho detto quando andavo lì, una delle cartine di tornasole è la condizione della donna per noi, perché sentiamo intimamente questo come un indicatore della civilizzazione.